salve sono francesco da francoforte volevo salutare i miei familiari e amici da san michele vi volevo dare anche gli auguri di buona pasqua ma anche a tutto san michele volevo salutare a mio zio vito zia pina francesco zia antonio zio cosimo leonardo rocco pasqua vito cucù con maraveduccia con bagiovanni e tutti 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 che mi conoscono vi voglio fare gli auguri buona pasqua vi auguro che presto ne uscite fuori di questa storia anche noi qui in germania perché da noi è abbastanza complicata però finché noi facciamo quello che ne dicono di stare a casa di fare i bravi di non fare i furbetti e ne usciremo presto e presto ci rivedremo a san michele a bene un vino una birra mangia un panzerotto una pizza quello che volete finché fate quello che vi dicono va bene fatti e bravi e saluta giovanni il sindaco che sta facendo un buonissimo lavoro e rispettatelo perché vuole soltanto il bene vostro lui va bene statemi bene e a prestissimo va bene ciao tanti saluti